Noto, educare alla legalità gli alunni della scuola Melodia visitano il commissariato nettino. I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia dell'istituto Melodia del plesso Montessori insieme alle insegnanti hanno affrontato un percorso di sensibilizzazione alla legalità che si è concretizzato con la visita al commissariato di Noto. Gli incontri con gli alunni della scuola rappresentano un importante passo nell'ambito della formazione alla cultura della legalità e permettono di avvicinare la società alle forze di polizia auspicando un miglioramento della sicurezza urbana e un aumento della percezione di sicurezza tra la cittadinanza. La sezione quinta è stata accolta da tutto il personale della Polizia di Stato nel commissariato di pubblica sicurezza di Noto per una mattinata scolastica alternativa. Il dirigente Emilia D'Angelo e i suoi uomini hanno guidato i bambini alla scoperta della struttura e dei compiti che il corpo di polizia ha nella tutela della città.